In sella la sua moto aveva provocato un incidente nel pieno centro di Montevarchi, poi era fuggito a tutto gas nel tentativo di far perdere le sue tracce senza prestare soccorso al ferito. Adesso, grazie alle immagini del sistema di videosorveglianza, gli agenti del commissariato di polizia sono riusciti a rintracciare e denunciare alla Procura della Repubblica il pirata della strada. Si tratta di un trentenne del posto pregiudicato. L'episodio risale allo scorso 23 giugno, quando il Montevarchino si è scontrato con un altro motociclista. I poliziotti sono così intervenuti per rilevare l'incidente stradale. All'arrivo, dopo aver prestato soccorso ad uno dei due motociclisti coinvolti, i militari, grazie alle dichiarazioni dei testimoni, hanno appurato che il responsabile dello schianto, un giovane, nonostante si fosse accorto di cosa aveva causato, non si è fermato. L'esame delle immagini dell'impianto di videosorveglianza adesso ha permesso di individuare il responsabile e denunciarlo per omissione di soccorso.